Un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla nostra ottava rievocazione della battaglia di Castagnaro. Vi porco un saluto a nome di tutta l'amministrazione comunale e come prima cosa, vista anche la straordinarietà dell'evento quest'anno che è stato organizzato a seguito della situazione emergenziale in cui siamo tutti coinvolti, devo sicuramente iniziare con dei grandi ringraziamenti a tutti gli attori che si sono dati da fare per poter presentare anche quest'anno questa bellissima iniziativa che ormai sta diventando una nostra ricorrenza consueta ed è sempre più importante per noi portarla avanti, ma per farlo dobbiamo sicuramente essere grati a tante figure che si sono date da fare a livello associativo, quindi ringraziando le nostre associazioni locali, Proloco, l'associazione culturale Battaglia di Castagnaro, innanzitutto poi anche tutto il mondo scuola, dalla dirigente ai docenti e tutti i nostri ragazzi e ragazze alunni e alunne che hanno appunto dato il proprio contributo per portare a tutti voi questo segnale di rievocazione che vogliamo portare avanti anche in questo momento particolare, ma naturalmente tutto questo è nato otto anni fa e lo stiamo portando avanti grazie soprattutto anche ai due signori che sono qui a fianco a me con tutti i loro colleghi rievocatori, con Giorgio Gaino e Maurizio Riboni e tutti i loro colleghi e tutte le varie associazioni d'Italia che si stanno dando da fare per rievocare le varie manifestazioni, i vari momenti storici del nostro territorio e per noi qui a Castagnaro questa nostra esperienza che è stata appunto molto importante nella storia del territorio, della provincia, della regione e quindi anche del nostro paese Italia, ma soprattutto per noi qui a Castagnaro appunto perché la battaglia finale è avvenuta qui dove stiamo parlando adesso, è 1387 e oggi è proprio l'11 marzo il giorno della rievocazione perfetto perché è proprio il giorno della data in cui è avvenuto questo evento. Naturalmente ci dispiace non poterlo rievocare come fatto qualche anno fa con la parte culturale che stiamo facendo adesso ed inoltre anche con la parte visiva rievocativa con tutti i rievocatori presenti all'interno delle sponde dell'Adige, però purtroppo la situazione in cui viviamo non ci consente di agire diversamente. Siamo comunque consapevoli che tutto il lavoro fatto per portare questo segnale e questa rievocazione anche quest'anno ha sicuramente un valore ancora maggiore visto appunto la difficoltà. Ringrazio anche come amministrazione, gruppo amministrativo, il nostro vice sindaco Cristian Formigaro e l'assessore della cultura Patrizia Fattori, i nostri due organizzatori in primis come amministrazione comunale assieme ai nostri uffici della cultura con i vari collaboratori amministrativi. Poi nel mondo scuola ovviamente in primis il professor Celeghin che ogni anno si impegna al massimo con i propri colleghi e con tutti i nostri ragazzi e ragazze delle scuole e non per ultimi diciamo i signori Occhi perché abbiamo il professor Francesco Occhi, il nostro storico che ci dà sempre una forza e una voglia di portare avanti questa iniziativa oltre a tante altre e anche Marco Occhi che quest'anno si è fatto in quattro per poter produrre questa bellissima promozione a livello multimediale, a livello televisivo anche. Poi ovviamente in primis come associazione che ha ideato questa organizzazione è la nostra Proloquo e quindi ringraziamo Gian Paolo Occhi, presidente dell'associazione ma anche uno degli attori principali nella predisposizione di tutte le programmazioni. Io non voglio dilungarmi ulteriormente visto che avremo poi i nostri ospiti o meglio i nostri collaboratori in primis qui presenti che vi porteranno tante informazioni e vi ricorderanno tante cose che appunto sono legate a questa rievocazione. Invito qui anche il vice sindaco per un suo saluto. Grazie a tutti, grazie a tutti coloro che hanno dato una mano a portare avanti questa bellissima rievocazione e naturalmente avanti sempre per portare questa idea e queste informazioni a tutti e penso che aver iniziato oggi con le scuole, quindi con il futuro, con gli attori che dovranno conoscere ancora di più la storia del proprio territorio, penso sia stata la cosa migliore. Quindi buon proseguimento a tutti e buona giornata a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi unisco anch'io ai vari ringraziamenti che ha fatto il sindaco, a chi ha contribuito con noi alla realizzazione di tutte le edizioni, in particolar modo di questa. Un'edizione difficile per vari motivi, soprattutto per la pandemia e soprattutto per quella parte organizzativa difficile da gestire in questo periodo qua. Quindi i miei ringraziamenti sono ancora più sentiti perché organizzare tutto questo non è stato semplice. Volevo sottolineare una cosa, ogni anno cerchiamo di aggiungere un qualcosa in più a questa nostra rievocazione tra le maglie della battaglia, la poesia della battaglia, il libro della battaglia di Castagnaro, le varie recite dei nostri alunni e alla realizzazione di una poesia della battaglia di Castagnaro. Quest'anno abbiamo creato questa nuova associazione culturale, la battaglia di Castagnaro, perché questa associazione possa da sola riuscire ad organizzare l'evento, possa gestire in toto tutto l'evento, lo possa nel tempo poter migliorare, allargare alla provincia e alla regione. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Volevo per questo ringraziare il presidente Riccardo Celighin, che sarà lui a dirigere questa associazione. Abbiamo voluto coinvolgere come giusto che sia la Proloco, la scuola, il comune e i rievocatori. Infatti chi farà parte del direttivo sarà, come abbiamo detto, il presidente Riccardo Celighin, Francesco Occhi, Gianpaolo Occhi, rappresentanti del Proloco e i nostri due rievocatori perno principale che ci permettono di organizzare con i nostri 250 rievocatori la battaglia vera e propria. Giorgio Gaino e Maurizio Liboni, quali vanno i miei ringraziamenti per averci dato una mano nel poter realizzare questa battaglia. Oltre a loro anche i vari rievocatori che ci hanno dato una mano, da Simone Morbioli, al Pecio Tao e altre persone che ci hanno aiutato a poter portare a Castagnaro questo evento. Io mi fermo qua, un saluto a tutti e un buon proseguimento con il nostro convegno dei nostri due rievocatori. Grazie a tutti. Ragazzi, ciao. Qualcuno sicuramente si ricorda di me, avrà ancora gli incubi dall'ultima volta che mi ha visto e siamo qua quest'anno per annoiarvi con quello che era non tanto la battaglia, la battaglia di Castagnaro è la conclusione di una disputa, di una guerra tra le signorie e scaligere la signoria carrarese, ma è la fine. La partenza viene dall'inizio del 300, ma nel 1386 i veronesi sono praticamente arrivati fino alle porte di Padova, sbaragliando l'esercito carrarese e al posto di mettere sotto assedio la città, si sono dispersi nelle campagne perché, e qua poi vedremo, si sono dati al saccheggio e al recupero delle forze. Praticamente si va a trovare da mangiare e si fa bottino. I Padovani si riorganizzano e inizia appunto questo rimpiattino che porterà, intanto i Padovani si riorganizzano e liberano Padova, i veronesi si ritirano ai territori e i Padovani iniziano l'inseguimento. L'inseguimento che arriverà col suo culmine all'assedio di Verona ed è di questo che oggi vi voglio parlare. Cioè l'assedio e le sue macchine, le battaglie di assedio. Quello che si vede nel film è molto bello, cioè praticamente c'è tanta gente intorno al castello, non si muove nessuno, piovono le frecce dagli spalti, si tirano frecce da giù, con la riete si va contro il portone, se devono vincere gli assedianti si butta giù il portone, se devono vincere gli assediati li rovesciano di tutto e di più, anzi veramente. L'iconografia classica del film vuole che si venga rovesciato dell'olio bollente. Allora, l'assedio non era una cosa così semplice come appare nei film. Ovviamente il film ha due ore di tempo, non è che può passare tutto il tempo a far vedere, ma la prima cosa che facevano gli assediati, prima di rinchiudersi nelle loro fortezze, era portare ovviamente i più viveri e più persone possibile all'interno del castello. Tutto quello che non si poteva portare all'interno del castello veniva distrutto tranquillamente, di modo che l'assediante, che d'accordo avrà i suoi cariaggi con i rifornimenti, ma i rifornimenti se la cosa va per le lunghe finiscono, quindi bisogna andare in giro per le campagne a depredare e a fare riserva e quindi distrae truppe da quello che è l'assedio vero e proprio. Ora, l'assedio vero e proprio. La prima macchina che viene usata per difendersi, perché effettivamente dall'alto piovevano frecce di archi, dardi di balestra e non tanto olio bollente quanto liquami di ogni tipo, perché l'olio era molto prezioso e quindi veniva difficilmente impiegato come arma difensiva, ma veniva tenuta per scoppi alimentari. La prima macchina di cui abbiamo parlato, vi ho parlato della riete, ma la prima macchina che viene costruita, perché le macchine si costruivano sul posto, non venivano portate da lontano, è il gatto. Che cos'è un gatto? Allora, il gatto, molti staranno facendo ovviamente ironia sul simpatico felino che sempre più invade le nostre case, ma il gatto era una tettoia mobile, quindi quattro pali di legno montati, un telaio su cui veniva montata una tettoia e serviva per andare sotto le mura proprio per difendere chi c'era sotto, perché sotto il gatto si poteva mettere due macchine che, come ho detto prima, uno è la riete, penso che non ci sia bisogno per nessuno della descrizione della riete, il secondo è il trapano. Il trapano era una asta di 3-4 metri di lunghezza, ovviamente di uno spessore adeguato, con una punta all'estremità. Veniva piantata, e qui primo luogo comune, non nel portone, ma nel muro o sui cardini del portone, ma generalmente sul muro difensivo. Veniva piantato, si faceva ruotare mediante leveraggi e questa punta pian piano scavava il muro. Dopodiché si usava all'ariete e a colpi di ariete, appunto, veniva fatto crollare il muro. Chiaramente dall'alto pioveva di tutto, quindi dalle frecce, come detto, e materiali liquidi surriscaldati, pietre. E altra tecnica difensiva su questo tipo di combattimento era costruire un altro muro dietro. Per cui, una volta che io sono riuscito a buttare giù il primo muro, mi trovo comunque costruito un altro muro e devo ricominciare da capo con, insomma, gioia di chi è all'opera. Un'altra maniera che vediamo molto spesso combattere, usata per il combattimento durante l'assedio, è la scala. La scala non è una scala di 10-11 metri, vi assicuro che non è così semplice da alzare. Provate, d'accordo che non è il nostro mestiere, però provato e riprovato, alzare una scala di quel tipo a 11 metri diventa molto difficile. Venivano montate delle sorte di piattaforme e comunque con un argano e un braccio basculante venivano attaccate alle estremità delle scale e con quest'argano si tirava mediante carrucole la fune e si alzava la scala. Una variante di questo tipo è la cicogna. Cos'è la cicogna? Animale che per molto tempo è stato creduto responsabile delle nascite. In realtà, nelle macchine da sedio, la cicogna è un cesto come quello che molto spesso avrete visto anche in giro quando vedete operai dell'Enel piuttosto che del telefono che lavorano sui pali. Quindi è questo cesto sempre attaccato a un braccio basculante, sempre azionato mediante un argano, corde e carrucole, che alzava i soldati all'altezza degli spalti e poteva portare al combattimento corpo a corpo e se si riusciva a entrare nella fortezza. Un altro tipo di macchinario è il pluteo, che altro non è che un gigantesco scudo, detto anche Mantelletta, che chi ha assistito alla battaglia avrà visto e avrà sentito parlare dei pavesi, dei pavesari. La Mantella è uno scudo ancora più grande, alto magari due metri e largo uno, uno e venti, uno e cinquanta, seconda delle esigenze, dietro cui si riparavano i soldati per combattere e sempre per proteggersi dalle frecce e da tutto quello che cadeva dall'alto. Un altro, c'è anche lo scorpione, altro macchinario che scagliava Giavellotti mediante un'asse che in trazione grazie al nostro arganetto che ormai usiamo per tutto, veniva tirata all'indietro, si inserivano dei grossi Giavellotti nelle apposite sedi, si lasciava andare la corda che tratteneva quest'asta, l'asta colpiva i Giavellotti e li sparava contro le mura avversarie. Queste sono le macchine meno conosciute, dopodiché si arriva, beh l'Ariete sicuramente è uno dei più conosciuti, arriviamo alle catapulte. Le catapulte sono, non c'è bisogno di spiegarvi che cosa siano perché penso che tutti quanti sappiano, abbiano visto all'opera le catapulte, ce ne erano di diversi tipi. Uno era azionato da delle corde che venivano torte agli estremità, una in senso inversa all'altra, il braccio veniva caricato all'indietro, nel momento della massima tensione, si mollavano le due estremità, le corde ritornavano in posizione e scagliavano il braccio verso l'avanti in modo che lanciasse la pietra posta nel cucchiaio. Le due macchine però più famose come catapulte sono il mangano e il trabuco. Sono due macchine piuttosto semplici perché non hanno le corde da dover torcere ma semplicemente hanno pesi e contrapesi nel caso del trabuco. Il mangano invece era azionato a mano, cioè io mi attaccavo a un'estremità del braccio che lancia la pietra, io e dei miei compagni ovviamente, tiravo con forza e il braccio facendo il movimento lanciava la pietra. Il trabuco invece che raggiunse dimensioni notevoli, si arriva a sei metri di altezza per il braccio, faceva lo stesso lavoro solo che aveva dall'altra estremità del braccio che serveva a lanciare, aveva un contrapeso, con l'argano tiravo giù la mia bella estremità dove caricavo il proiettile, sganciavo di colpo, il peso dall'altra parte lanciava, faceva ruotare il braccio e lanciava la pietra contro e qui torniamo non al portoni ma contro le mura. Soprattutto si è scoperto che la parte, una delle parti più deboli era anche l'attaccatura delle mura alle torri. Comunque queste sono le macchine che andavano per la maggiore durante gli assedi. Altra, allora come detto anche prima, ovviamente a ogni mossa c'è una contromossa, non era infrequente che venissero calati per evitare, per ridurre gli urti degli arrieti e dei mangani, delle proiettile dei mangani, venissero calati dei materassi, proprio una serie di stoffe imbottite di diverse dimensioni, proprio perché così il mio ariete andava a colpire sto materasso, il colpo veniva attutito e non aveva gli effetti sperati. Ovviamente io mi predisponevo, mediante gli appositi mantelletti e soldati preposti con, se vi ricorda, chi si ricorda abbiamo parlato anche delle armi contadine, con questi, con roncole, con stegagni, con falci, con tutto quanto, poteva agganciare o tagliare le corde con cui mi calavano i materassi in modo da liberare la parte di muro di cui io ho bisogno per andare a sfondare con i miei macchinari. Una cosa che è entrata nelle leggende dei film sono le frecce e i proiettili incendiari. Ora, incendiare un portone con una freccia incendiaria non è molto semplice e non erano quindi così diffuse. È vero che molto spesso col mangano venivano lanciati dei proiettili incendiari che esplodevano all'impatto, ma tutto sommato non avevano un grande uso, non avevano un grande ritorno, era meglio una bella pietra di quelle fatte bene che mi buttasse giù il muro. L'ultima tecnica di guerra d'assedio di cui vi parlo è un termine che è arrivato e che tuttora viene usato molto spesso. Io penso che tutti abbiate sentito parlare dei minatori e della mina. Il minatore è un operaio che va nel sottosuolo, scava gallerie per portare fuori quello che è carbone, oro, ferro, quello che serve. La mina invece viene conosciuta per due versioni una la cantante, l'altro un ordigno esplosivo. Ma da dove arriva questo termine? Mina, minatori, eccetera. Allora, una e forse era anche una delle più diffuse metodologie di attacco era quello sotterraneo cioè i soldati o meglio le truppe preposte, i minatori, iniziavano a scavare, protetti dai nostri famosi plutei o dai gatti, una galleria, raggiungevano una certa profondità e partivano in orizzontale ovviamente puntellando tutta la volta di questa galleria con fascine, con fasci di legna arrivavano fin sotto le mura e qui scavavano una camera e in un primo tempo, una volta scavata la camera, si riempiva di sostanze incendiarie si usciva, si dava fuoco, si riempiva anche la galleria, si dava fuoco a queste fascine di modo che tutta la volta di legno, tutte le fascine di legno prendevano fuoco non c'era più niente che sosteneva la volta e nella camera il peso delle mura faceva crollare il muro e apriva il nostro varco, io grazie al mio gatto infilavo sotto le mie truppe partivo e entravo di lì. La contromossa, ecco nel tardo medioevo con la polvere da sparo appunto non si fa più tutto questo lavoro di riempimento ma si piazzavano delle cariche esplosive, dei barilotti di polvere nera, si faceva esplodere quella e avevamo risolto. La contromossa era la contromina, cioè gli assediati scavavano a loro volta una galleria al di sotto della mia in modo che arrivati al punto giusto, quindi non sotto le mie mura la galleria crollasse seppellendo i soldati che stavano scavando la galleria di mina. Queste sono le tecniche prevalenti della guerra d'assedio. Ripeto, non era così facile sigillare soprattutto città come Verona, come Padova, che avevano varie vie di uscite e non c'erano solo le strade. Già oggi con le strade asfaltate comunque è difficile chiudere completamente una città. Figuriamoci in quei tempi con boschi, paludi e quant'altro. Però diciamo che molte volte si ottenevano risultati. Montagnana viene presa dai veneziani proprio grazie all'assedio, non ci fu mai una vera battaglia. Li hanno presi per fame, li hanno sigillati dentro e li hanno presi per fame. Così molte altre. Verona, Giovanni Acuto, come dicevamo all'inizio, non riesce a sigillarla. Si rende conto che non può fare, anzi, le truppe che uscivano gli bruciavano i campi intorno, gli avvelenavano i pozzi. Ha pensato bene di ritirarsi verso lì di più consoni all'esercito, cioè di ritirarsi verso Castelbaldo, che è giusto di fronte a Castelbaldo. Le truppe, lo sappiamo, sapete, giocano a rimpiattino finché le truppe veronesi riescono a chiudere la via per Castelbaldo, dove c'era un castello presso cui si potevano rifornire. Gli riesce a chiudere la via. L'Acuto si asserraglia in questo angolo tra Adige, il Castagnaro è. La storia poi ha dimostrato cosa è successo. Alla fine della fiera, comunque, dopo la battaglia di Castagnaro, la signoria scaligera cade e Verona passa per un breve periodo sotto il dominio padovano. Allo stesso tempo Padova si è talmente tanto indebolito che perde Verona grazie ai Visconti e perde la libertà grazie a Venezia. Quindi questo è l'epilogo di due mancati assedi. Ora, molto spesso per celebrare queste cose si ricorreva a delle feste e passo la parola al mio collega, amico, socio. Giorgio, Giorgio, c'era una domanda e chiedevano come si costruivano le frecce incendiarie. Le frecce incendiarie, allora, freccia normale. La punta aveva una sorta di cestello in cui venivano inseriti dei materiali altamente infiammabili, pece, stoppa, eccetera, e molto probabilmente una sostanza di cui ancora non è ben chiaro che era anche quella che veniva usata per il fuoco greco. Molto spesso la freccia incendiaria è poco utile anche perché scagliandola tende a spegnersi. Deve essere fatta molto molto bene. Difatti molto spesso è un artificio a cui ricorriamo noi rievocatori per fare le frecce incendiarie davanti alla fiamma vera e propria mettiamo anche un dischetto di qualcosa in modo che l'aria passi al di sopra di quello che è la parte infiammabile e quindi la mantiene accesa. Ma è spettacolarizzazione. La freccia incendiaria era fatta come detto prima. La punta aveva una sorta di cestello dentro materiale di pece, stoppa e quant'altro veniva dato fuoco e veniva lanciata. Esaudiente? Non ci sono più domande. Perfetto, passo la parola ai giochi. Perfetto, passo la parola ai giochi. Mi sentite meglio così? Sì ok, allora riprendo. Sì come dicevo voglio parlare di un argomento un po' diverso perché il Medioevo non è solo guerra, combattimenti, uccisioni, però è anche feste, è anche pali, tornei e quant'altro. Quindi parlando di un argomento un po' più allegro, vi voglio parlare del palio di Verona perché anche pochissimi sanno che Verona ha praticamente organizzato e ospitato uno dei più antichi e longevi pali d'Italia ed Europa. Perché il palio di Verona si cominciò a svolgere alla fine del 1100 addirittura, cioè la prima documentazione certa risale al 1198 e arrivò a svolgersi fino a tutto il 1700. Quindi praticamente un palio che con pochissime interruzioni si svolse per circa 600 anni. Quindi ovviamente il palio c'era anche nel 300, nel nostro periodo della battaglia di Castagnaro, si svolgeva il palio soprattutto sotto la dominazione degli scaligeri ebbe il suo apice. Era un palio noto in tutta Italia e anche in Europa. Ebbe anche, e dopo lo vediamo nel dettaglio, uno spettatore illustre perché nel 1304 Dante Alighieri, sommo poeta, è a Verona e assiste al palio. E rimane talmente affascinato, dopo lo vediamo, che ne parla addirittura nella sua Divina Commedia. Il primo statuto del palio di Verona risale al 1276. In questo statuto viene ufficializzato anche il nome ufficiale del palio di Verona, perché il nome ufficiale della festa è Dominica Totius Populi, che in latino significa semplicemente la domenica di tutto il popolo e che ci porta due elementi importanti. Il primo ci dice che il palio veniva di domenica e il secondo che non era una festa limitata agli aristocratici e ai nobili, ma era una festa veramente del popolo, di tutta la città. Per quasi una settimana le mura di Verona venivano aperte e chiunque poteva entrare e assistere al palio a partecipare anche alle gare, che adesso vediamo nel dettaglio, perché il palio infatti prevedeva delle gare. In origine, fino a quasi 1450, prevedeva solo due gare, successivamente le vengono introdotte altre, io mi concentrerò su quelle del nostro periodo, quelle del 300. Sono una gara a cavallo dedicata alle famiglie aristocratiche, quindi ci potevano partecipare solo i cavalli e i cavalieri delle famiglie aristocratiche e invece veniva successivamente fatta anche una gara a piedi e a questa gara potevano iscriversi chiunque, quindi tutto il popolo, tutti i veronesi, i cittadini o anche non veronesi da altre città, potevano partecipare a questa gara. Come avvenivano queste gare? I punti di partenza e di arrivo cambiarono nel tempo, però a un certo punto, circa metà del 1400, si consolida la tradizione di arrivare in piazza Santa Anastasia e l'origine della corsa, di quella a cavallo soprattutto, era in un punto che esiste ancora oggi, perché per chi conosce un po' la città di Verona abbiamo due elementi che riportano ancora il nome del Palio, perché abbiamo Porta Palio e abbiamo la via che prosegue dalla Porta Palio che si chiama Corso Porta Palio e non sono nomi a caso, perché la Porta del Palio che c'è adesso non è quella ovviamente che esisteva nel 300, ma nello stesso punto è retta dagli scaligiari e c'era una Porta del Palio e quindi l'abitudine era di partire da lì e di arrivare alla Longa, quindi in un percorso rettilineo, in piazza Santa Anastasia. Ovviamente, non vi ho detto la cosa più importante, qual era la domenica in cui si svolgeva il Palio? Era la prima domenica di Quaresima, quindi in realtà la festa del Palio era la coda della festa del Carnevale, quindi anche il Palio venendo dai giorni di Goliardia, di Baldoria, del Carnevale, la proseguiva, quindi era una festa e una gara in cui un po' tutto era lecito, infatti molto spesso gli stessi cavalli e cavalieri venivano ostacolati o dal popolo stesso oppure dalle famiglie antagoniste che cercavano in qualche modo con sotterfugi, con trabocchetti di ostacolarsi a vicenda e quindi erano anche all'ordine del giorno incidenti di qualsiasi tipo. La corsa ovviamente come tutte le corse prevedeva un premio e il premio infatti era il Palio, il Palio altro non è che una stoffa, un drappo, infatti per la gara dei cavalieri era previsto il premio un drappo di lana preziosa rossa scarlatta, lana preziosa che più avanti si trasformerà in seta o in velluto, però nel 300 ancora abbiamo documentato che il premio, il Palio era una lana preziosa rossa, molto costosa. Però la particolarità del Palio, visto che siamo in clima di Carnevale, non è di premiare solo il primo arrivato, perché si premia anche l'ultimo arrivato, in realtà si sbeffeggia l'ultimo arrivato. L'ultimo arrivato della corsa dei cavalieri era costretto a ripercorrere a ritroso il percorso del Palio a cavallo, ma con una cosa in più, perché veniva appeso alla testa del cavallo, al collo del cavallo, due mezzenne di porco, di maiale, quindi venivano appesi due pezzi di maiale con interi e venivano appesi attorno al collo. Il problema era che lo statuto prevedeva che il popolo, la gente, potesse, anzi fosse autorizzata a prendere parte di questa carne. Oggi parliamo di assembramenti, immaginate un cavallo con due mezzenne di porco che cammina per la città e la gente ovviamente del popolo affamata, perché ovviamente la carne era un cibo per nobili, non era alla portata di tutti, questa gente che cercava con coltelli, coltellacci, qualsiasi cosa potesse avere in mano, di andare a prendersi una parte di questa carne. Infatti gli statuti dell'epoca riportano anche regole per limitare queste cose, perché gli incidenti, anche gravi, erano all'ordine del giorno, anche qui, molto spesso veniva ferito anche purtroppo il cavallo e anche il cavaliere, che comunque ricordo faceva parte di una famiglia aristocratica, molto spesso poteva anche andarci di mezzo. Però appunto immaginate questa scena di questo cavallo con questa carne appesa che gira per la città. E questo era per quanto riguarda la gara dei cavalieri. C'era l'altra gara, quella dei popolani, che è quella che Dante cita nella sua Divina Commedia, la cita in particolare nel quindicesimo canto dell'Inferno. In questo girone dell'Inferno sono condannati tutte le persone contro qualcosa, le persone contro la natura, le persone contro la morale, le persone contro Dio. La condanna è di camminare, correre sotto una pioggia continua di lapilli, diciamo di piccole pietre incendiate, e sono costretti a muoversi costantemente perché se si fermassero sarebbero costretti a star fermi per cento anni sotto questa pioggia di fuoco. Quindi Dante, accompagnato da Vergilio, passa per questa landa e una persona di un gruppo di questi corridori, di questi condannati, si ferma, lo riconosce e Dante lo riconosce a sua volta perché è Brunetto Latini quello che Dante identificava nel suo maestro. Non vi racconto cosa si dicono. A un certo punto cosa succede? Che la schiera dei condannati di cui faceva parte Brunetto Latini si allontana troppo e ne sta arrivando un'altra. E quindi, colto dalla fretta di non rimanere bloccato per cento anni in questa pioggia di fuoco, Brunetto Latini molla lì Dante proprio all'improvviso e si mette a correre più veloce che può per raggiungere di nuovo la sua schiera. E qui Dante, descrivendo questa scena, cita proprio il palio di Verona. Ora, visto che la mia memoria è quello che è, vi leggo i versi di Dante esattamente come sono scritti. E quindi Dante scrive Poi si rivolse. E parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna. E parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Dante, nella sua maestria, in pochissime parole, riesce a darci un sacco di informazioni. Innanzitutto ci parla del drappo verde, perché il palio di Verona è conosciuto anche, anche grazie a Dante, come palio del drappo verde. Perché, nello stesso modo in cui il palio dei cavalieri veniva ricompensato, il vincitore veniva premiato con un palio di stoffa rossa. Il premio per il vincitore della gara podistica era un drappo verde. Quindi un drappo, di nuovo un pezzo di stoffa, meno pregiato ovviamente della precedente, ma un bel panno di lana verde con cui si possono fare dei vestiti. Era comunque un premio molto ambito. Di nuovo però ci dà qualche altra informazione in più, perché ci dice che correva per la campagna. La campagna è una campagna con la C maiuscola. È la campagna, diciamo, che sta nella zona sud, sud-ovest di Verona. E quindi praticamente da qui capiamo che, a differenza della corsa dei cavalieri, la corsa podistica, almeno nel 300, e dopo cambierà un po' nei secoli, si svolgeva completamente all'esterno della città. Quindi la corsa avveniva proprio per la campagna esterna alla città. Conclude poi questi versi dicendo che sembra colui che vince, quindi sta correndo molto veloce, non colui che perde. Però Dante non scrive mai niente a caso, perché se dice che c'è qualcuno che perde è perché è vero, perché come nella corsa dei cavalieri anche qui l'ultimo arrivato riceve una beffa, riceve un premio ed è costretto a fare una penitenza. Anche lui deve girare per la città a ritroso ed è costretto a portare un gallo sulla mano, a modi falconiere. Infatti la figura di questa persona con il gallo un po' sbeffeggia la figura del falconiere, che comunque era una figura molto importante nel Medioevo e nell'aristocrazia, e percorre la città per mostrare a tutti questo gallo. Il gallo in realtà è un simbolo positivo, un simbolo ben augurante, è l'animale che suona, scusate, canta quando sorge il sole, quindi comunque è un simbolo molto positivo. Quindi anche qui la gente cercava in tutti i modi di raggiungere questo gallo, anche solo vederlo, ma toccarlo, addirittura strappargli delle penne come ricordo, perché era comunque un simbolo ben augurante. E qui comunque immaginate la scena di questa persona con un gallo in mano che gira per la città e tutte le persone che cercano di avvicinarsi per prendere parte a questo avvenimento. Queste erano le due gare principali, in realtà dal 1450 in poi all'incirca verranno poi via via introdotte altre due gare, di cui adesso non vi parlo nel dettaglio, ma sarà la gara delle donne, anche se in realtà più che donne sono prostitute, diciamo, non proprio le donne popolane. E addirittura dopo verrà introdotta una corsa degli asini, che anche qui la corsa degli asini va un po' a scimmiottare, a sgueffeggiare la corsa degli aristocratici. Però queste sono tradizioni, diciamo, che verranno introdotte successivamente. Come dicevo, il palio si andrà a correre fino a tutto il 1700 praticamente. Altre cose, ovviamente vi ho detto che si svolgeva la prima domenica di Quaresima, questa cosa alla chiesa nel 1400 comincia ad andare un po' storta e si tenta per qualche anno, San Bernardino nel 1422 la sposta al giovedì grasso, per non farla correre di una domenica santa, come la Quaresima. Questa cosa però vi dico, ai veronesi non andò mai giù e quindi a parte qualche piccolo anno, come nel 1422, in cui viene spostata, i veronesi si riappropriarono sempre della propria festa nel 1422. Chiudo semplicemente dicendo che immaginate Verona completamente aperta, piena di gente da tutta Europa, con banchetti, feste, tornei di tutti i tipi. Cioè veramente era una settimana in coda al carnevale che era uno spettacolo per gli occhi, quindi da tutta Europa venivano. Quindi ricordatevelo, noi speriamo come rievocatori di riportare in auge il palio, ci stiamo provando con altri amici rievocatori a riportarlo in città, però ricordatevi che Verona per più di 600 anni ha ospitato e organizzato uno dei pali, una delle feste più belle di tutto il Medioevo e quindi siatene orgogliosi. Io non so se Giorgio nella sua città aveva qualcosa di simile, non credo che possa essere qualcosa paragonabile al palio di Verona, ovviamente io sono veronese quindi tendo per la mia parte, sto assolutamente scherzando, però vediamo se anche dalla parte di Cararesi c'è la tradizione di festeggiare e di correre. Quindi ripasso la palla al mio collega. Allora, sì, anche nel Padovano, a parte in Padova, Padova che c'è e tuttora lo fanno il Paglio dell'Arcella, che è un quartiere di Padova, ma nella fattispecie, visto che mi ha tirato in ballo direttamente, Montagnana nel 1366 inaugura il primo Paglio della città. Perché? Allora, come detto all'inizio, c'è una certa rivalità tra Cararesi e Scaligeri. Padova e soprattutto gli estremi lembi del comune di Padova, quindi il comune di Montagnana e tutta quella zona, era spesso e volentieri saccheggiata o occupata dalle truppe Scaligere. Finalmente, finalmente tra virgolette, nel 1366 Francesco il Vecchio riesce a, lui pensa, chiudere definitivamente la porta ai veronesi, quella porta ai veronesi, per cui fa erigere la rocca degli alberi, che è l'imponente rocca che, per chi conosce Montagnana, si trova davanti, arrivando appunto da Legnago, da Verona, fa costruire questa imponente rocca e per festeggiare e la liberazione dai, o meglio, la presunta liberazione dalle invasioni Scaligere e quest'imponente opera muraria indice nella terza domenica di agosto un palio che è riservato ai cavalli, e qui scadiamo nel politicamente scorretto, perché lo statuto cita proprio cavalli e non cavalle, quindi possono correre solo cavalli, è una corsa in linea e il palio è, come anche per Verona, un drappo rosso che verrà dato al vincitore, al secondo verrà dato un gallo, al terzo un melone, perché il gallo, come ha già detto Maurizio, non era solo lo sfottere il falconiere, il gallo è una cosa importante, è una ricchezza, avere un animale è una ricchezza e quindi viene svolta inizialmente in linea, si parte da un punto che è un fiume che passa lì vicino e si arriva appunto in centro montagnano, poi successivamente verrà impiegato, verrà fatto in un anello, ma generalmente tutti i pali venivano corsi in linea, e questa appunto è la storia del palio del montagnanese, storia che poi viene ripresa dopo la prima guerra mondiale, ma stiamo parlando di modernità e la cosa non ci interessa più, noi restiamo legati ai momenti che portano alla battaglia di Castagnaro, questo è il sunto della presentazione di questa festa, che come giustamente ha detto Maurizio nel medioevo, non c'erano solo le guerre, ma c'erano anche momenti di svago e di divertimento, quindi con bancarelle, con spettacoli, salti in banco, eccetera, eccetera. Ora, volevo anche fare una brevissima, un brevissimo escursus, sia il palio di Verona che il palio di Montagnana, contrariamente Ammo e la battaglia di Castagnaro, sono delle vere e proprie rievocazioni storiche, ci darei un attimo, perché molto spesso si parla di rievocazione a vanvera, rievocazione vuol dire appunto riportare alla memoria, riproporre una cosa che è esistita, non una cosa di fantasia, come purtroppo succede in molte altre feste, poi possono essere fatte bene o male anche le rievocazioni, e Castagnaro è fatta benissimo. Il palio verde ci sta tentando, Montagnana un po' meno, lasciamo perdere. Quindi appunto la rievocazione si basa su fatti effettivamente accaduti, come la battaglia di Castagnaro, come il palio di Montagnana, come il palio di Verona. Ringrazio ancora Giorgio Gaino e Maurizio Limoni per questa bellissima conferenza che ci ha raccontato dei pali di Verona e di Montagnana e delle tecniche dell'assedio e dei giochi che si facevano durante i pali. Grazie a tutti, arrivederci, vi vediamo. Grazie a tutti.